Ma mentre c'è di per me ne? Ma che ragionamenti! Ma che ragionamenti! Sbarcano a Lecco i legnanesi, grande successo per una causa decisamente nobile, liberi di sognare però stasera in versione ridotta sogni per questione di spazio. Liberi di sognare comunque cosa? Ma il sogno è libero, quindi liberi di sognare appunto. Uno può sognare quello che vuole, è la cosa più libera che esiste, no? Il sogno. E quindi mai più titolo azzeccato come quello di quest'anno dopo un periodo veramente burrascoso del Covid. Sostituire il Giovanni non è cosa facile, però sembra, almeno a detta del pubblico, che ci riesca bene. Sì, effettivamente per me, come stiamo dicendo, è una gioia immensa e incredibile. Io sono fan da sempre delle legnanesi, conosco l'Antonio, quello è Enrico, quindi mi è sempre piaciuto andare a vederli. Da lì era anche un'idea mia, un sogno, un domani che andrò in pensione, magari mi trovate una particina, che bello. Da lì però interpretare il Giovanni, insomma, è uno dei tre importanti delle legnanesi, è favoloso. Antonio Provasio è la Teresa, questa Teresa che continua da anni a far divertire. Noi lo diciamo sempre, divertiamo divertendoci, quindi finché rimane questa voglia, questa gogliardia, questa voglia di stare insieme e di divertirsi insieme, insomma, andiamo avanti. Sono già 23 anni quest'anno dalla mia Teresa, spero di farne altre tanti, che Dio ce la mandi buona, però insomma, finché riusciamo a riempire i teatri, finché lo spettacolo piace, noi andiamo avanti. Per fare del bene fa bene a chi lo fa, soprattutto, no? Quindi per ogni occasione, quando ci propongono queste situazioni, noi non ci tiriamo mai indietro, come giustamente dici tu, quindi siamo felici di questa cosa. Sono sei anni che facciamo queste serate con i legnanesi, infatti si è ricreato anche una buona sinergia e soprattutto molta amicizia. Lo scopo appunto è di dare ricavato al Nespolo, quindi è un evento molto importante che io ci ho sempre creduto assieme al collega Luca Ronchetti, perché lui è proprio un volontario. Adesso ci siamo attivati per l'Emilia in questi due giorni e stiamo raccogliendo anche lì dei fondi, quindi io ringrazio il Presidente che sarà presente anche lui stasera e lo scopo è proprio di continuare a fare del bene alla gente. Certe volte esce l'uomo che c'è in mezzo. Allora, non esci, non esci, non esci. Buonasera, va con lui.